guardate qua cosa abbiamo oggi questo è il trouble decker e la versione race del pullman inglese del famoso pullman londinese e l'hanno fatto un po così a race effettivamente vedete c'ha gli scarchi laterali c'ha queste prese d'aria c'ha il bilanciere dietro c'ha il spoiler qua l'alettone insomma ha fatto una versione race molto probabilmente per far giocare i bambini sulle piste ecco qua per far andare sulle piste ed è un po un modello particolare perché a parte che è tutto in plastica fondale metallo sì leggero una lega leggera ed è la versione diciamo della dell'originale che è questo invece questo il famoso route master il double deck di londra chi frequenta londra ha frequentato londra si ricorderà adesso non sono più in servizio questi qua l'hanno ritirato dal servizio da qualche anno e purtroppo ed erano bellissimi ricordo che da bambino ci andavo spesso a londra e ho delle foto che avevo piccolo qua perché dietro praticamente l'accesso è aperto e c'è la scala che si va su si entrava tutti da dietro e due piani classico autobus due piani si qua hanno fatto la storia proprio a londra e questi pullman qua perché sono mitici e adesso la questa versione però accendiamo un po meglio la luce così lo vendiamo meglio questa versione qua però è della matchbox vedete è un matchbox infatti si vede la qualità molto bella è molto bella un matchbox punto double deck del 2006 questo è e noi ce l'abbiamo in diverse versioni questa ce l'abbiamo così vedete con le grafiche così poi ce l'abbiamo in verde con la scritta matchbox transport praticamente c'era una versione proprio originale verde che avevano fatta la matchbox e girava per londra a livello promozionale pensate come era potente la matchbox ai tempi e ci aveva proprio un bus così fatto verde con scritto matchbox poi abbiamo un'altra versione anche questa con scritto matchbox un con questa colorazione dorata cerchi neri vedete che bello che adesso qua è fatto in due pezzi praticamente vedete sopra e sotto e poi ci sono i perni che lo tengono bellissima se qua sono uscite qualche anno fa con la versione appunto matchbox nella serie matchbox bellissimi quindi diciamo abbiamo questi tre che sono quelli originali diciamo riprendono il pullman originale invece quest'anno in realtà l'anno scorso uscita appunto questa versione qua un po' esasperata un po' esasperata che praticamente riprende macchine da corsa trasformando questo pullman questo autobus in un autobus da corsa vedete i cerchioni dietro insomma da accelerazione e questo è uscito mi sembra appunto l'anno scorso per quest'anno è uscita una nuova colorazione eccola qua vediamo parliamo la data sotto che non fa fede la data sotto il 2022 si è 2023 l'hanno messo sul mercato per uscita questa colorazione qua eccolo qua 126 250 vediamolo un po' è sempre lo stesso riusciamo alla piega eccolo qua anche lui tutto in plasticaccia georgetown in questa doppia colorazione qua quindi beige sotto e rosso sopra e qui cerchi col profilo rosso vedete qua che si vede il dietro con il paracadute bilanciere insomma è una cosa un po' particolare no e qua c'è addirittura la presa d'aria naturalmente c'è un motore a reazione chissà che motore ha dentro chissà nella fantasia del designer della Mattel che cosa gli è passato nella testa no poi oltre a quella appena uscita adesso questa da poco è uscita un'altra colorazione questa qua è uscita dopo da qualche settimana e se siete appassionati di questo modello lo trovate adesso in giro nei vari nei vari negozianti eh questa colorazione penang ed era georgetown anche questa adesso qua addirittura sembra con la scritta cinese sembra quelli di hong kong perché anche a hong kong c'erano questi autobus qua per un periodo eh poi hanno fatto i loro però c'è stato per un periodo che avevano una versione così eccole qua vedete col tetto la parte ribassata quella alta se la vedete la differenza tra l'originale vedete originale sopra e alto perché ci deve stare in piedi le persone invece questi qua essendo aerodinamica l'hanno abbassata vedete hanno un po' tutta abbassata e c'è questo punto questa versione qua peccato che non ha nessun dettaglio parte delle calcomanie sono belle diciamo laterali queste le calcomanie questo arancione addirittura prende il colore della pista ecco facciamo una cosa mettiamo qua un paio di piste uno due e tre ecco di qua così li mettiamo tutti qua sulla pista ecco perché questo è il loro ambiente questo è il loro ambiente la pista delle hot wheels perché sono fatti appunto per correre questi qua che un pullman così è fatto giusto per correre in pista eccoli qua cosa dite di questi affari qua di questi mostricciattoli qua e ormai avevo preso il primo e non potevo mancare di prendere anche l'altro eh una volta che inizio con uno poi vado avanti se no poi me ne manca uno e mi dispiace e ha fatto appunto queste tre versioni qua e poi sulla pista vanno anche abbastanza bene eh questo è meglio questo qua rosso la pista fidano bene poi non so se questi qua non penso proprio riescono a fare il giro della morte oppure mandandoli più in pista a tal velocità come si comportano ma magari inizieremo a fare un po' qualche gara montare la pista con tre corsie e fare la gara vediamo chi arriva primo magari eh come sempre lo dico sempre poi dal dire al fare c'è di mezzo veramente un sacco di di cose da fare da organizzare che alla fine non ci riesco mai e come avete visto sono rimasto un po' fermo con i video perché sono stato un po' impegnato sono un po' impegnato in questo periodo e anche un po' svogliato a dire la verità perché non è che le visualizzazioni ci diano ci premiano però vabbè ormai l'ho già detto parecchie volte e continuerò a dirlo sperando che un giorno youtube ci grazie un po' guardate che bello però la vecchia versione questo sì che è bello questo sì che stava a Londra in quegli anni io andavo il mio primo viaggio in assoluto a un anno mi sembra sono andato proprio a Londra poi da lì sono andati diverse volte tante volte e questo è proprio uno dei simboli di Londra che purtroppo adesso non ci sono più ci sono alcuni che fanno dei tour privati se vuoi fare un tour privato con questi qua questa agenzia e ti fa fare il giro di Londra con questi vecchi pullman addirittura mi ricordo che questi in verde così c'erano anche a Lisbona in Portogallo tantissimi anni fa e so che io ero rimasto bloccato qua davanti ero bambino col gomito c'era la maniglia per tenersi io ho infilato il gomito e poi i miei genitori mi hanno detto dai scendiamo andiamo e io non riuscivo più a sganciarmi di lì poi per fortuna facendo una manovra insomma girando un po' il braccio sono riuscito a sganciarmi poi c'è stato quel momento di panico perché dovevamo scendere e allora poi ha chiamato l'autista e dice aspetta che è rimasto bloccato allora poi pazientemente ha aspettato e siamo riusciti a scendere e vabbè cose da ragazzi che si fanno e mi ricordo che c'era appunto erano verdi quelli di Lisbona erano uguali verdi e quanti anni sono passati e poi sono tornato a Lisbona diverse volte e non l'ho più visti adesso non ci sono più ormai non sono più a Lisbona questi però a Londra qualcuno lo puoi anche trovare poi questi qua li trovi anche in giro perché molti li hanno comprati e li hanno fatti diciamo come mezzo promozionale addirittura c'era negozi che li utilizzavano ogni tanto qualcuno si vede ancora in giro però non sono più funzionanti sono praticamente delle calcasse che portano in giro e via perché sono iconici proprio iconici poi c'è un rumore, un fumo erano dei trattori erano dei vecchi trattori niente dai molto più belli questi cosa ne dite? questi oppure la nuova generazione qua di svitati qua questi svitati qua cosa ne dite? quali vi piace di più? delle due versioni? quelle iconici, storici o questi moderni? lasciatemi nei commenti dai lasciatemi i vostri commenti che sono curioso vedere cosa ne pensate voi li avete trovati queste sono le prime tre cioè le uniche tre uscite uscite dall'anno scorso e quest'anno sono le uniche tre versioni per ora poi magari ne faranno delle altre io logicamente avendo le prime vorrei farle tutte quindi ti viene la scimmia di volerle tutte e niente dai niente per oggi è tutto ci siamo visti questi pulmini qua che da un po' che ce l'ho lì da fare ti aspettiamo che esca quello nuovo che appunto che è questo così facciamo un po' il video e questi invece questi da tanto che ce l'ho tengo lì preziosi preziosi su qua rosso sono tutti belli 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 beh per oggi è tutto ci vediamo alla prossima con un nuovo video spero di riuscire a riprendere un po' di produzione di video e abbiamo un sacco di macchine a farvi vedere spero di riuscire ci vediamo alla prossima ciao mi raccomando se non è ancora fatto lì iscriviti al canale suona la campanellina guardate anche quel video lì lascia un commento qua sotto ci sono anche tutti i nostri social ci vediamo alla prossima ciao